Un benvenuto agli ascoltatori da parte di Biagio Mannino. Shanghai, una città che conta quasi 30 milioni di abitanti. Il cuore della produttività, il cuore finanziario, il cuore commerciale della Repubblica Popolare Cinese di Xi Jinping. Non solo, di quella Cina che sta portando la sua economia nel 2032 a superare quella degli Stati Uniti, collocandola come la potenza economica globale. Era il 1997 quando Hong Kong passava dall'amministrazione britannica a quella della Repubblica Popolare Cinese e quel principio, uno Stato, due sistemi, dava il via a quella corsa che ha portato la Cina di oggi. Una Cina che in questo momento però si trova ad affrontare delle serie problematiche proprio a Shanghai, la pandemia di coronavirus. I contagi sono aumentati nella realtà nella metropoli cinese e la decisione della politica di Xi Jinping segue la linea dura che da sempre è stata adottata in queste occasioni, ovvero il lockdown. Tutto questo provoca però sostanzialmente un grande malessere proprio perché Shanghai, come detto, rappresenta il cuore pulsante dell'economia cinese e che in questo momento si trova ad affrontare una situazione che evidenzia come la politica di limitazione della pandemia nel contesto della Repubblica Cinese segua sempre le stesse linee, ovvero il lockdown sostanzialmente. Xi Jinping segue una linea, ovvero quella di arrivare al principio Covid-0, nessun contagio, ma logicamente tutto questo porta anche un sostanziale malessere nel contesto sociale cinese e non solo, anche nel contesto della politica cinese, avvicinandosi il ventesimo congresso del partito comunista cinese che andrà a nominare il nuovo presidente della Cina. Xi Jinping nel 2018 riusciva a far modificare la Costituzione e l'Assemblea Nazionale del Popolo, votò favorevolmente l'eliminazione della regola del doppio mandato, 2.998 voti a favore, un astenuto, un contrario. Ebbene in quel momento la forza di Xi Jinping sembrava inattaccabile. La politica, l'intero partito comunista cinese guardava proprio a lui come l'unica figura in quel momento così importante e così forte per poter portare la Cina verso quelle conquiste tanto ambite, ovvero diventare il primo Stato, la prima potenza globale al mondo. Una Cina che ha fatto dei passi da gigante in tutti i settori, anche nella conquista dello spazio, ma soprattutto una conquista dello spazio rivolta proprio alla stessa produttività cinese. Aspetti di non secondaria importanza, ma la filosofia ispiratrice di Xi Jinping è quella sostanzialmente di Mao, andando a portare invece un allontanamento nei confronti di Deng Xiaoping, di Yan Zeming, di Yu Jintao, considerati proprio i padri di quella che è la Cina attualmente presente. Infatti quel principio, uno Stato, due sistemi che vedeva il partito comunista cinese avvicinare il capitalismo è stata la chiave vincente per la Cina dei primi anni 2000 e contemporaneamente una volta raggiunti questi importanti traguardi, Xi Jinping conduce la Cina sostanzialmente in una linea che di fatto riporta al passato. Molti i malumori nel contesto del partito comunista cinese e quella figura che soltanto pochi anni fa sembrava inattaccabile, invece in questo momento storico si mostra vulnerabile. I problemi non mancano nel contesto cinese, la gestione della pandemia, tutto quello che ha rappresentato nell'ambito anche della comunicazione nel contesto globale di come la pandemia sia stata gestita in Cina, le contraposizioni con gli Stati Uniti, le questioni legate allo Xinjiang, Taiwan, Hong Kong e problematiche come il calo demografico che preoccupa e preoccupa molto perché quella corsa alla conquista della prima posizione nell'ambito delle potenze globali potrebbe essere proprio limitata da questi aspetti. Per Xi Jinping la strada sembra essere in salita. Per oggi questo è tutto.